Qualche mese fa ho avuto la possibilità di provare la Megane E-Tec in un'anteprima e già all'epoca vi dissi che secondo me era una delle automobili più interessanti lanciati di recente, in assoluto, non solo tra le elettriche. Adesso ho avuto la possibilità di testarla più a lungo e già vi posso confermare che all'epoca non mi ero sbagliato. Per conoscere il listino completo su questa Megane E-Tec non vi resta altro che cliccare sul link in alto a destra e avere accesso così a drivekey.it e troverete il listino completo e anche le offerte disponibili in questo momento e potrete anche confrontarla con tutte le altre vetture disponibili sul mercato italiano. Cliccate quindi sul link in alto a destra o qua sotto in descrizione per scoprire di più. Quando vedi per la prima volta le foto della Megane E-Tec pensai subito che in Renault avevano cambiato direzione rispetto alla moda legata al SUV e al crossover andando direttamente sulle berline compatte, le cosiddette HVAC. E vista dal vivo la vettura conferma delle proporzioni molto particolari appunto un'unione tra i mondi delle berline compatte a cinque porte e i crossover, tanto di moda ai giorni nostri. Oltre a questo comunque la vettura vista dal vivo appare molto gradevole con linee morbide, molto aerodinamiche e al contempo personali. Un design assolutamente non scontato e reso particolare anche dai gruppi ottici all'anteriore con una firma luminosa articolata che va a caratterizzare il frontale. I gruppi ottici sono molto sottili e nella parte centrale troviamo un enorme scudetto che riprende il logo del brand. Una soluzione di design ma anche pratica perché al di sotto di questo elemento trovano spazio i radar per la guida semi-autonoma. In questo modo quindi si evita di averli a vista nella parte sottostante. Un elemento di design invece già più visto e scontato per certi aspetti è al posteriore il gruppo ottico che va ad unirsi con una banda luminosa centrale. Il disegno di questa vettura, come vi dicevo, secondo me è molto particolare ma anche molto vero e riuscito grazie anche alla presenza di cerchi in lega dalle grandi dimensioni in questo caso da 20 pollici. E voi cosa ne pensate? Fatemelo sapere nei commenti. Se gli esterni della Megane Tech sono particolari anche gli interni non sono da meno soprattutto per la presenza di questo enorme conglomerato tecnologico. Lo possiamo definire così perché abbiamo un sistema di infotainment verticale posizionato qua molto facile da raggiungere e soprattutto rivolto verso il conducente e subito sotto abbiamo poi tutti i comandi dedicati alla climatizzazione quindi in modo facile e veloce si può alzare la temperatura, abbassarla, regolare la ventilazione o posizionarla semplicemente in modalità automatica e questo è sempre molto comodo con subito vicino le quattro frecce o l'apertura e chiusura ma davanti a me ho ancora tra l'altro una strumentazione digitale che è possibile andare a controllare in parte proprio tramite il comando dedicato sulla razza del volante andare a visualizzare diverse informazioni una tra tutte sicuramente è la funzione di gestione dell'energia che state consumando nel momento quindi il computer di bordo con il power meter quindi quello che vi dice quanto state consumando di energia sul momento e quanto ne state recuperando da considerare però il fatto che questa configurazione non è sempre di serie perché nella configurazione base abbiamo un sistema di infotainment più piccolo quindi se volete tutto questo ben di dio tecnologico allora a quel punto dovrete andare sugli allestimenti superiori questo schermo rappresenta comunque tutta l'interfaccia con cui poi dovrete appunto avere a che fare per controllare le funzionalità chiaramente si può andare tramite sottomenu a regolare le varie modalità di guida il multisense che oltretutto è anche possibile controllare tramite il tastino multisense posizionato proprio sul volante a quel punto con una semplice pressione andrete semplicemente a selezionare la modalità comfort eco sport oppure quella personalizzabile oppure ancora potrete fare in maniera ancora diversa vi faccio vedere tra pochissimo come si fa una maniera alternativa per cambiare questo e anche altre funzioni perché subito sotto voglio farvi vedere anche quali sono le funzionalità disponibili sia i sedili con massaggio integrato che l'assistenza al parcheggio automatico e anche la possibilità di regolare le varie modalità di assistenza al conducente quindi allerta angolo cieco, distanza al veicolo antistante oppure ancora andare a regolare l'aiuto al mantenimento della corsia tutto molto semplice da visualizzare e in maniera immediata poter ritrovare quella che è la grafica dei sistemi che troviamo sui cellulari quindi già lo conosciamo, abbiamo molta semplicità a utilizzare queste interfacce grafiche molto molto interessante anche perché il sistema è stato sviluppato partendo da Android Automotive quindi è proprio in realtà ripreso pari pari da quella che è l'esperienza di Google nella gestione dei software e poi possiamo andare a vedere tutte le varie impostazioni e anche la possibilità di controllare il veicolo quindi andare a regolare alcune delle funzionalità ad esempio all'apertura ci sono determinati suoni che possono essere attivati o disabilitati oppure ancora le luci di guida che possono essere regolate in maniera adattiva quindi si tratta dei sistemi Matrix all'anteriore che possono essere regolati per poter avere un fascio luminoso continuamente modulato in base alle situazioni del traffico e poi chiaramente posso andare anche a visualizzare altre statistiche dell'elettrico vedere quanto sta consumando energia e come la sta consumando oppure andare a impostare la ricarica quindi ricaricare subito oppure programmarla più tardi oppure vedere la batteria a che carica è e tra l'altro andargli anche a dire come ricaricarla quanto ricaricarla se per il quotidiano fermarmi all'80% oppure per i viaggi andare proprio a caricare al 100% poi posso ancora andare a passare tra le varie applicazioni le vedete qua Google Assistant, News, Maps, Podcast, il telefono integrato oppure Apple CarPlay e Android Auto che sono comunque disponibili come software in più anche se in realtà appunto se siete abituati a Apple CarPlay lo utilizzerete ma nella pratica poi questo sistema è davvero molto semplice da utilizzare e non richiede niente in più rispetto a quello che è già integrato nel sistema perché? Perché in realtà se andiamo a vedere il navigatore che è poi una delle funzionalità che potrebbe servire di più in marcia è tutto integrato con Google Maps quindi già quello che avete a bordo prevede già Google Maps con una funzionalità estremamente utile ossia la possibilità di mostrarvi le statistiche sulla ricarica quindi se io vado a dirgli ad esempio di portarmi a Roma guardate adesso Hey Google, portami a Roma Navigazione verso Roma A questo punto mi darà sulla sinistra le varie tappe necessarie per la ricarica e mi dirà anche con quanta ricarica arrivo oppure quanto tempo mi serve per le singole ricariche quindi già mi pianifica tutto il viaggio in maniera molto semplice ed è estremamente facile e anzi una delle funzionalità obbligatorie sostanzialmente per poter gestire al meglio una macchina elettrica nei lunghi viaggi il fatto quindi di avere già Google Maps integrato nel sistema di bordo permette quindi di non dover necessariamente poi utilizzare Apple CarPlay se non appunto magari per lo streaming musicale tramite Spotify oppure Apple Music o altri sistemi di streaming e poi posso andare ancora da qua a selezionare proprio la fonte multimediale oppure semplicemente andare a visualizzare il telefono connesso via Bluetooth al posteriore la visibilità non è tantissima l'1.8 è piccolo quindi per ovviare a questo problema è stata inserita una telecamera sulla pinna posteriore quindi semplicemente facendo così si attiva la telecamera così in modo da avere appunto la visuale libera al posteriore come dicevo poco fa i comandi vocali hanno anche un'ulteriore funzione rispetto al solito l'uso di Android Automotive infatti non è soltanto un vezzo nerd ma piuttosto un software integrato nelle funzioni del veicolo è possibile infatti controllare altre funzioni tra quelle più scontate come il clima e la radio un esempio è la selezione delle modalità di guida con l'eccellenza del riconoscimento delle parole garantita dal sistema operativo Android per quel che riguarda invece la qualità la vettura non riesce a raggiungere l'eccellenza secondo me perché ha comunque diversi elementi che poi semplicemente mettendo mano qua e là si rivelano un po' troppo economici al tatto e anche per quel che riguarda gli assemblaggi o comunque la resistenza apparente mettiamola così perché poi in realtà non vi so dare un riferimento in anni di utilizzo ma per quella che è stata poi il tempo che ho speso a bordo di quest'auto qualche assemblaggio poteva essere fatto meglio e quindi mi dà un po' quella sensazione di debole soprattutto nella parte centrale andando a toccare appunto diversi elementi si ha una sensazione non di cura ottimale anche la maniglia stessa ad esempio della portiera oppure alla chiusura della portiera il rumore non è poi piacevole quindi non dà quella sensazione di solidità dell'auto qualche assemblaggio ripeto andrebbe fatto decisamente meglio perché comunque la vettura ha un costo non indifferente e sebbene sia disegnata veramente molto bene perché l'abitacolo è davvero molto bello anche con questa illuminazione in ambiente perimetrale che aumenta la sensazione di qualità generale percepita però è anche vero che dal punto di vista degli assemblaggi c'è qualche carenza qua e là tutte queste funzionalità la rendono secondo me una delle vetture più semplici da utilizzare e più tecnologiche perché proprio ti porta ad avere una facilità di utilizzo con un sistema che è del tutto uguale a un tablet a uno smartphone che già conosciamo e questo è uno degli elementi fondamentali che ha reso ad esempio Tesla molto famosa perché comunque sono sistemi che sono molto rapidi, veloci, reattivi questo è esattamente alla stessa maniera rapido, veloce e reattivo quindi veramente un ottimo lavoro fatto sul sistema di infotainment e su tutto il comparto tecnologico in generale ma non si ferma in realtà qua questa vettura perché quest'auto è lunga 4,19 m veramente pochissimo contando gli standard attuali tutti vanno sui segmenti superiori in Renault hanno voluto invece portare un modello che sia facile e gestibile anche sulle nostre strade quindi 4,20 m è davvero una dimensione ridotta ma questo senza rinunciare comunque allo spazio all'interno guardate quanto ne ho a disposizione sia per il conducente comunque un'ottima posizione di guida ben avvolgente con tutto lo spazio che mi serve ho visto tra l'altro su Instagram in tanti mi avete scritto ma questa console va a togliere spazio a scontrare col ginocchio personalmente no chiaramente se si va a guidare con l'appoggio diciamo così sulla destra si può essere appoggiato ma non dà fastidio comunque in realtà poi la posizione di guida più normale solitamente è quella appunto di questo tipo quindi anche poi nei lunghi viaggi non ci si va a rilassare più di tanto così tanto da dover stare addirittura col ginocchio appoggiato almeno nel mio caso non mi ha creato nessun tipo di problema quello che invece è molto positivo è il fatto di avere tantissimo spazio a disposizione dalla plancetta qua sopra su cui appoggio il telefono e viene ricaricato gommata quindi non si sposta molto ampia e facile da raggiungere poi qua sotto abbiamo a disposizione diversi spazi tra l'altro anche modulabili con queste paratie che si possono spostare avanti indietro in modo tale da modulare lo spazio di disposizione porta bicchieri qua davanti poi ancora un piccolo vano qua sotto in cui ho posizionato le chiavi ma volendo si può anche appoggiare magari il telefono volendo per il passeggero anteriore e poi schiacciando così si va a rivelare invece un spazio ulteriore sotto il bracciolo anteriore veramente moltissimo lo spazio su quest'auto per il passaggero anteriore per il conducente per i passeggeri posteriori invece lo spazio non è tantissimo soprattutto per chi è molto alto io sono alto 1,85 m e ho spazio sufficiente ma non esagerato e nonostante questo comunque lo spazio è molto buono contando le dimensioni esterne ancora di più nel bagagliaio 440 litri di capacità minima nel bagagliaio sono veramente tanti considerate le dimensioni esterne anche perché vetture magari anche più grandi non riescono ad arrivare a questo litraggio tra l'altro è possibile anche sfruttare poi un piccolo pozzetto per poter far stare i cavi di ricarica e averli non all'interno del bagagliaio e se lo spazio interno è un altro degli elementi che la rende veramente una delle auto più interessanti in questo momento non ci resta altro che andare su strada e vedere se c'è qualcos'altro da scoprire eccoci quindi al volante della nuova Megani Tech con la sua batteria da 60 kWh una delle due disponibili l'altra è da 40 kWh costa un po' meno ma quella da 60 è probabilmente quella migliore da acquistare se avete necessità comunque di fare qualche lungo spostamento ogni tanto e in effetti vi permetterà anche di fare dei lunghi spostamenti nonostante la batteria non sia poi così enorme come capacità perché in effetti se pensiamo ad esempio ad altre versioni disponibili sul mercato anche la ID.3 o la Cupra Born arrivano fino a 77 kWh quindi 60 kWh come taglia massima non è tantissimo ma comunque l'efficienza del motore è veramente molto molto buona e questo vi permetterà comunque di fare diversi chilometri dell'autonomia in condizioni reali ne parliamo tra pochissimo voglio partire dalle basi ossia da qual è la motorizzazione a mia disposizione beh su questa versione ho il motore da 220 cv di potenza massima e 300 Nm di coppia in effetti anche per quel che riguarda il power train abbiamo infatti due scelte 130 CV la potenza minima e appunto questo da 220 CV rappresenta la motorizzazione più prestazionale volendo come vi dicevo posso andare tramite il mio tasto Multisense a posizionarla in Comfort quindi quella in cui sono adesso Eco tra l'altro non cambia poi le vostre preferenze nel momento in cui riaccendete la vettura quindi non va sempre su Eco ma rimane selezionata la modalità di guida che avete preferito e poi possiamo andare su Sport a questo punto la vettura diventa estremamente reattiva in accelerazione molto pronta e avrete tutta la prestazione che poi potete richiedere una vettura di questa categoria un'auto che tra l'altro conta anche su uno sterzo particolarmente diretto molto rapido nei movimenti sebbene poi l'assetto non sia principalmente tendente alle emozioni di guida la vettura ha un'ottima tenuta ma comunque rimane pur sempre un'automobile più che altro confortevole da poter utilizzare tutti i giorni infatti quando vado a posizionarla in Comfort la vettura diventa molto morbida estremamente pratica da utilizzare in città ad esempio ma anche in lunghi viaggi con tutta la potenza necessaria per poter fare magari il sorpasso in autostrada senza nessun tipo di problema o di carenza di potenza tra l'altro una funzionalità che ha causato molto è proprio la modalità eco perché in effetti in questo modo limita il consumo fino ad un massimo di 60 kWh per 100 km quando siete proprio al massimo dell'accelerazione e tra l'altro limita anche la velocità e quindi in autostrada non riuscirete o comunque in qualsiasi contesto a raggiungere più di 105 km orari da tachimetro pertanto va proprio a limitare le prestazioni ma aumentare comunque esponenzialmente l'autonomia a vostra disposizione che permetterà quindi di andare anche ad influire sulla climatizzazione che diventa più efficiente tra l'altro per migliorare ancora di più l'efficienza in Renault hanno deciso di utilizzare soprattutto per i mesi invernali la pompa di calore che permette di sfruttare al massimo proprio il calore appunto prodotto dalle varie componenti dell'auto per riscaldare l'abitacolo arriviamo a questo punto a parlare dell'efficienza tradotto in quanta strada faccio con la batteria al 100% beh in città percorrerete circa 460 km senza troppi problemi stessa cifra più o meno che potrete riscontrare anche in ambito exterurbano tra i 70 e i 90 all'ora classica statale diciamo così poi dipende tanto del percorso evidentemente ma comunque queste sono le percorrenze e poi in autostrada siamo a 130 orari a 300 km di percorrenza mentre attenzione come sapete cambia tantissimo il consumo semplicemente passare da 100-110 a 130 ebbene a 100 all'ora quindi con la modalità eco inserita riusciamo a percorrere di nuovo 450-460 km con una carica in autostrada e comunque riusciamo poi a perdere pochi minuti in confronto ai 130 orari di media che poi non saranno mai di media quindi in realtà siamo comunque su cifre molto interessanti giusto per fare un riferimento siamo sull'efficienza migliore tra le migliori in assoluto all'interno della categoria delle elettriche e tradotto vuol dire percorrere quasi 8 km per ogni kWh contro i circa 7 di media che possiamo percorrere con le elettriche in generale quindi veramente un'efficienza ottimale da parte di Renault che ha lavorato tantissimo su tutto il powertrain sulla batteria che è stata prodotta da LG e abbiamo a disposizione una batteria molto sottile circa 11 cm di spessore posizionata qua sotto permette di avere tanto spazio come vi dicevo permette di abbassare il baricentro ma di non essere poi molto pesante perché siamo sui 400 kg di peso complessivo su 1600 kg di massa totale della vettura ossia circa un centinaia di chili in meno rispetto a una Volkswagen ID.3 parte del merito è dato anche dal fatto che in Renault hanno lavorato molto sul motore andando a sfruttare tutta l'esperienza che hanno potuto immagazzinare in questi anni sulla Zoe sicuramente ma anche in generale su tutte le vetture elettriche e rispetto alla Zoe questo motore è un po' più piccolo pesa 140 kg circa ed è appunto più leggero, più piccolo, più compatto pur erogando maggiore potenza stiamo parlando veramente di un lavoro fatto di fino per andare a lavorare al meglio sull'efficienza e andare comunque a non esagerare con i pacchi batteria quindi non esagerare con il peso non esagerare con gli ingombri della vettura ma mantenendo pur sempre un'efficienza ottimale ecco perché, e questo è un altro elemento secondo me questa vettura è una delle più interessanti attualmente in circolazione e lanciate in generale di recente ecco perché in effetti abbiamo un lavoro fatto veramente in maniera ingegneristica non soltanto sulla parte tecnologica comunque fatta in maniera molto semplice molto facile nel suo utilizzo ma anche per quel che riguarda proprio l'ingegneria e la tecnica che c'è dietro appunto allo spostamento tramite batterie, tramite elettroni ebbene hanno fatto davvero un ottimo un ottimo lavoro ma non è finita qua perché ovviamente mi direte ma qual è invece la capacità di ricarica di questa batteria beh siamo sui 130 kilowatt di potenza in assorbimento di questa vettura con la corrente continua mentre per quel che riguarda la corrente alternata fate molta attenzione perché qua è veramente una differenza abissale tra questa e tutte le altre elettriche anche la ZO in realtà ha quella capacità attenzione però comunque parliamo pur sempre di una vettura di diversa categoria ma se prendiamo a riferimento le vetture elettriche in circolazione di questa fascia di prezzo e di queste dimensioni in corrente alternata siamo a 11 kilowatt ok quindi le vetture non riescono ad assorbire più di 11 kilowatt questa arriva tranquillamente a 22 kilowatt perché tranquillamente? perché in realtà il caricatore di bordo viene comunque dotato della capacità necessaria, della tecnologia necessaria per sfruttare al massimo tutta la capacità di erogazione delle colonnine più diffuse ossia quelle da 22 kilowatt mentre lo ripeto da tutte le altre colonnine trifase 3,7 x 3 avete a disposizione circa 11 kilowatt di potenza in questo caso invece siamo a 7,4 x 3 circa 22 kilowatt di potenza di questa vettura che permette quindi di dimezzare i tempi di ricarica rispetto alle altre elettriche tradotto vorrà dire poter ricaricare da 0 al 100% della batteria con una colonnina da 22 kilowatt in 3 ore 10 mentre con la 130 kilowatt ci si riuscirà in 1 ora e 14 chiaramente non caricherete poi mai dallo 0 al 100% farete sempre cariche più brevi quindi è anche vero che dalle 22 kilowatt io personalmente partendo dal 50% ho potuto vedere tempi di ricarica di circa un'oretta poco di più quindi davvero gestibilissima rispetto a tante altre elettriche passiamo a questo punto agli ADAS che sono disponibili su questa vettura e dispongono del mantenitore della corsia attivo quindi semplicemente schiaccio il tasto qua a sinistra molto pratico comodissimo lo schiaccio semplicemente la vettura va ad attivare tutto quanto quindi se mi avvicino troppo alla linea di demarcazione semplicemente il radar lo rileva e lo sterzo va a sterzare delicatamente a mantenermi proprio al centro della corsia lo fa in maniera non invasiva assolutamente quindi anche qui lavoro fatto veramente di fino molto preciso volendo posso andare ancora a schiacciare il cruise control adattivo tasto set a questo punto la vettura va a rilevare le linee in terra e mi mantiene al centro della corsia andando ad agire proprio su quello che è lo sterzo in modo tale da avere tutti i parametri necessari tra l'altro abbiamo a disposizione anche un mantenitore della velocità attivo questo purtroppo è un problema ed è un problema perché in realtà ogni volta che vado poi a riattivare la vettura beh questo sistema si riattiva quindi cosa significa che voi state viaggiando ad esempio in autostrada a 130 orari magari rilevate appunto un cartello che dice 90 orari 80 orari o altra velocità a quel punto l'automobile va ad adeguare in automatico la velocità ogni volta se volete staccarlo dovete andare necessariamente su navigatore e andare a questo punto sul veicolo andare a questo punto su assistenza alla guida e di nuovo andare a gestione della velocità togliere limitazioni di velocità veramente fastidiosissimo è un qualche cosa che è già un'anticipazione di quello che vedremo in futuro sulle limitazioni legate proprio alle potenze e alle velocità delle vetture sarà un qualche cosa di obbligatorio su tutte le auto a partire dai prossimi anni e appunto si potrà magari andare a disabilitare ma purtroppo si riattiverà in automatico ogni volta che accendete la vettura questo lo trovo veramente una assurdità non tanto della vettura ma più che altro proprio della legge ad essa collegata detto questo chiaramente avremo sempre a disposizione frenata di emergenza automatica controllo dell'angolo cieco e tutti quei sistemi che sono ormai più diffusi anche su vetture di fascia, di prezzo e di categoria inferiore quindi abbiamo una suite completissima che mi permette di poter viaggiare anche nei lunghi viaggi davvero al massimo e poi semplicemente tiro questa leva a questo punto mi va a rivelare quello che ho alle mie spalle tramite una telecamera posizionata al posteriore molto comodo, comodo nei parcheggi parcheggi che possono avvenire anche in maniera del tutta automatica sia in ingresso che in uscita e tra l'altro abbiamo a disposizione anche un'altra tipica caratteristica dell'elettrico sia l'agilità perché questa piattaforma sviluppata interamente per le vetture elettriche CMF e V questo è il nome dato dal gruppo Renault Nissan Mitsubishi proprio per la piattaforma usata per la Megane e quindi con pochi movimenti volante possiamo tranquillamente infilarci anche negli spazi più stretti tramite le palette al volante è poi possibile regolare l'intensità della frenata rigenerativa su più livelli da 1 a 4 quest'ultima per la guida one pedal vi ho già anticipato delle capacità di comfort di quest'auto e aggiungo anche che l'abitacolo è davvero ben insonorizzato sembra quasi di viaggiare in una bolla d'aria da fuori filtra molto poco e anche nei lunghi viaggi non avrete alcun tipo di problema andando a chiudere quindi vi dico che questa vettura è una delle più interessanti perché ha tutto quello che serve ed è tutto integrato in maniera intelligente siamo riusciti a vedere nel corso degli anni diverse vetture, diversi marchi approcciarsi all'elettrico non sempre l'esperimento è riuscito è riuscito nel caso di Tesla assolutamente sì anche in quel caso la semplicità era la parola chiave e lo è secondo me anche in questo caso nel caso infatti della Megane Tech abbiamo davvero semplicità di utilizzo per quel che riguarda la tecnologia semplicità di utilizzo per quel che riguarda la ricarica quindi tanta potenza in AC ma anche in DC e tra l'altro abbiamo anche una facilità di uso nelle nostre strade con dimensioni compatte ma una possibilità di utilizzo a 360 gradi quindi dalla città fino appunto all'ambito autostradale senza troppi problemi e andando a capitalizzare quella che è l'esperienza di un brand come Renault che ha lavorato tantissimo negli anni ad esempio sulla Zoe un'altra auto estremamente interessante per chiunque voglia dotarsi di una vettura elettrica e andandola a portare su un'efficienza superiore quindi andando davvero a capitalizzare quell'esperienza in maniera molto molto intelligente a questo punto non mi resta altro che invitarvi a farmi sapere la vostra nei commenti ditemi cosa ne pensate e se magari se scegliereste questa Megane Tech oppure le altre vetture disponibili sul mercato le troverete tutte su drivekay.it e sul nostro canale troverete le recensioni in delle rivali dirette alla prossima, ciao!